Ciao ragazzi, io sono Antonio e oggi sono qui per parlarvi del primo dei vari volumi che HarperCollins Italia ha dedicato al nuovo film Animali Fantastici e i Crimini di Grindelwald. Oggi parleremo del volume dedicato alla creazione artistica del film. Qui accanto a me, alla mia destra, c'è il nuovo volume e qui, alla mia sinistra, invece, abbiamo il primo volume che fu dedicato a Animali Fantastici e dove trovarli, che ho già recensito sul canale e che trovate nelle schede. È un libro interamente dedicato, come dice il titolo stesso, alla creazione artistica. Molti di voi si chiedono spesso, ma che senso ha acquistare questi libri? Perché vengono fatti questi libri sulla creazione artistica? Intanto sono super interessanti, a mio parere, a prescindere. Ma detto questo, è spiegato benissimo nella prefazione di Stuart Craig, che ha collaborato con la stesura di questi libri, che ricordiamo essere assolutamente ufficiali e approvati da Warner Bros. Perché vengono fatti questi libri? Vengono fatti perché moltissimo materiale che viene creato dai vari designer che si occupano delle ambientazioni, degli scenari, degli animali, degli oggetti di scena, moltissimi, una grande parte, viene scartata. O perché il disegno magari non rispecchia completamente l'immagine che ha in mente J.K. Rowling o il nostro regista o chiunque altro, e quindi l'oggetto viene scartato e ricreato nuovamente fino a quando poi si giunge alla versione definitiva. Un altro problema può nascere quando la pellicola, come in questo caso, è troppo lunga e bisogna tagliarla, bisogna rimuovere delle parti di film e quindi magari un animale che è stato creato, disegnato, elaborato in digitale, poi improvvisamente viene tagliato fuori dalla versione definitiva del film. E quindi con questi libri si cerca di dare rispetto e valore a tutti quegli artisti che lavorano dietro le quinte di un film come Animali Fantastici e che devono trovare spazio per poter mostrare quello che hanno fatto, devono avere il riconoscimento dovuto e meritato per le loro opere che altrimenti finirebbero archiviate nei magazzini di Warner Bros. e che nessuno potrebbe mai visionare. Qui, infatti, c'è una larghissima sezione dedicata agli Animali Fantastici e ce ne sono tanti che purtroppo non abbiamo mai visto nei film, ma che sono stati già disegnati e elaborati digitalmente. E ci viene anche raccontato tutto il processo, tutto lo studio che c'è dietro a questi animali. E proprio all'inizio del libro troviamo lo studio che è stato necessario per realizzare Antonio, un animaletto, il Chupacabra, che scopriamo essere l'animale da compagnia di Grindelwald e tutto lo studio che c'è stato dietro questa scena di pochissimi secondi, perché l'abbiamo visto davvero per pochi secondi e addirittura ci viene raccontato che il designer di questa creatura si è recato presso lo Zoo di Londra e ha studiato tantissimi animali, tantissimi animali soprattutto strani, che erano conservati in barattoli, in salamoia praticamente. Tutti questi animali strani li ha studiati, li ha fusi assieme, ha studiato diversi tipi di pelle, diversi tipi di colorazioni della pelle di questi anfibi e alla fine si è deciso per optare per il blu che abbiamo visto nel film, anche se nelle prime versioni Antonio sarebbe dovuto essere o verde o addirittura rosso. Infatti troviamo moltissime illustrazioni con Antonio di colore rosso. Ma parliamo meglio di questo volume che è davvero bellissimo, è un volume cartonato di altissima qualità e ragazzi, cosa importante, perché so che molti ci tengono a saperlo, ha esattamente le stesse dimensioni del primo volume, la costa è stata mantenuta con la stessa grafica, quindi stanno benissimo uno accanto all'altro in la libreria e adesso vi parlerò anche di come è composto all'interno il volume, perché questo non è pieno di allegati, ne ha solamente uno, ma a parer mio forse è il miglior allegato che si sia mai visto in questo genere di volumi. Ve lo dico davvero con estrema sincerità, quando l'ho aperto, ve l'ho già mostrato su Instagram in anteprima, ragazzi sono rimasto a bocca aperta. Un allegato del genere non l'avevo mai visto, ma ci arriveremo alla fine. Intanto vi dico che l'indice del volume è suddiviso seguendo esattamente la cronologia del film. Quindi si parte con gli Stati Uniti, con la fuga di Grindelwald che troviamo qui in copertina. Mi è piaciuta tantissimo la scelta di inserire questa sequenza con la carrozza del prologo, che è la mia preferita in assoluto di tutto il film, come mi era piaciuta l'idea di mettere il tonalato nel primo volume. Davvero un fotogramma che racchiude moltissimo del film in questione. È proprio in questo primo capitolo che, come vi dicevo, è dedicato a New York, ecco che troviamo un approfondimento sui vari oggetti che abbiamo visto in quella sequenza. Quindi abbiamo un approfondimento su Antonio, come vi ho già raccontato, abbiamo un approfondimento sulla carrozza, sulla serratura, ma anche sui bauli che contengono uno, la bacchetta di Sambuco, e l'altro il ciondolo di Grindelwald. Anche qui un grandissimo studio sia sul ciondolo stesso che sul baule. Superato il capitolo di New York, ecco che poi ci spostiamo a Londra col Ministero della Magia, e anche in questo caso si vanno ad approfondire molti degli aspetti e dei particolari che abbiamo visto in quelle sequenze, come ad esempio l'aspirafolvere retro, che qui è molto ben spiegato, anche se l'abbiamo visto per circa 5 secondi sul grande schermo. E poi andando ancora avanti nella lettura, ci spostiamo in avanti cronologicamente nel film e arriviamo a casa di Newt. E casa di Newt è stata forse la più grande gatta da pelare in questo film per gli scenografi e per i designer, soprattutto a causa del sotterraneo di Newt, del suo piccolo zoo domestico, che è stato proprio una vera sfida di ingegneria. Ci sono tantissime scale sospese, green screen, e hanno dovuto ricreare tutto in studio. Tutto per pochi minuti di sequenze, ma che ha richiesto tanto, tantissimo tempo. E ragazzi, già in questa prima sezione dedicata a casa di Newt, ecco che troviamo le prime creature. Troviamo i Mooncalf, troviamo l'Oguri, troviamo il Kelpie, e tantissime altre creature che sono state anche appena accennate o viste solamente di passaggio all'interno del film. Alcune sono state purtroppo tagliate, ma altre sono molto ben approfondite, come ad esempio i Minis Nasi, e lo stesso Kelpie, che ha avuto dietro uno studio enorme, ragazzi. Ci sono tantissime versioni del Kelpie, e soprattutto si è cercato di capire come poterlo valorizzare al meglio, e si è poi optato per quella sorta di rodeo acquatico che Newt fa col suo Kelpie. Ragazzi, davvero un libro super interessante, che poi ancora va avanti, si passa anche per il Circo Orcanus, anche questo, molto approfondito in questo volume, è appena accennato nel film. Io sempre spero che possiamo trovare più avanti una versione estesa del film con molti meno tagli, e qualora foste interessati, trovate nella playlist Harry Potter la mia recensione del film Animali Fantastici e i Crimini di Grindelwald, e andando ancora avanti nella storia, dirò questa frase continuamente in questo video. Ecco che poi ci spostiamo, forse nella parte più interessante e più corposa, che è appunto quella dedicata agli animali fantastici. Perché sia quelli del Circo, che quelli che poi incontreremo man mano nella storia, hanno uno spazio molto molto importante all'interno di questo volume. Devo dire che pensavo che ci fosse all'interno molta storia dedicata a Grindelwald, una parte molto corposa dedicata a Silente e Grindelwald, e invece si dà molto più spazio alle creature, che probabilmente sono comunque gli oggetti, tra virgolette oggetti digitali, che più hanno impegnato i creatori e gli artisti del film. Quindi per chi fosse interessato alle creature in particolar modo, questo è il volume tra tutti quelli che sono usciti per HarperCollins, che sicuramente fa per voi. Anche se non vedo l'ora di poter recensire gli archivi della magia, che invece in quel caso è ricchissimo di allegati, che sono quelli che piacciono più a noi collezionisti, e spero di potervelo portare sul canale nel più breve tempo possibile. Ma ragazzi, naturalmente non mancheranno le parti dedicate a Grindelwald, al suo grandissimo discorso, al suo bong, anche quello, il suo bong fatto con un teschio, che Grindelwald utilizza per mostrare a tutti le sue visioni, anche questo un semplice teschio, che è dietro a uno studio gigantesco. Fino ad arrivare al Ministero della Magia francese, e anche qui c'è stato un lavoro enorme, soprattutto da parte degli scenografi e falegnami, che hanno dovuto ricostruire il mezzanino del Ministero della Magia, dove si affacciano sia gli archivi girevoli, che è quella bellissima cupola con le costellazioni magiche che girano proprio nella hall principale del Ministero della Magia. È proprio di queste costellazioni che arricchiscono questa cupola in vetro che sovrasta la hall principale del Ministero della Magia francese, voglio porre attenzione, perché all'interno del volume c'è quasi un capitolo dedicato a questa mappa stellare, che ha richiesto tantissimi mesi di lavorazione e c'è scritto che sia stata la sfida più grande che il designer abbia mai affrontato nella sua vita e proprio lui ringrazia tantissimo la produzione per avergli concesso tutto il tempo necessario e i mezzi che gli occorrevano per poter produrre quest'opera. E proprio quest'opera è l'allegato finale di questo volume. Ragazzi, io tra poco ve lo mostrerò e vi dico già che sono rimasto sbalordito, ve l'ho già detto, sono rimasto sbalordito dalla bellezza di questo allegato e dalla qualità che supera qualsiasi altra cosa voi abbiate mai visto all'interno di questi volumi. Adesso lo andiamo a prendere, si trova proprio alla fine del volume, eccolo qui, vedete, è abbastanza grande ma non quanto possiate immaginare. Spero si riesca a vedere bene anche dalla videocamera. È un allegato che si apre in quattro parti ed è appunto, come vi dicevo, questo cielo, queste costellazioni e sono stampate con un inchiostro argento. Io spero si possa apprezzare la bellezza anche così dalla videocamera. È qualcosa di spettacolare, ragazzi. È bellissima. Spero si riesca a notare il riflesso argento. I dettagli sono pazzeschi e queste costellazioni rappresentano ognuna un animale fantastico. Abbiamo l'Occhemi, il Demigais, il Grafon, abbiamo Loguri. Ci sono davvero tutti gli animali che abbiamo imparato a conoscere e anche di più alcuni che non abbiamo mai visti. Questa mappa stellare, ragazzi, sarebbe davvero bellissima in qualsiasi salotto perché è davvero di altissima qualità. Una stampa del genere vale già l'intero prezzo del volume perché, ragazzi, davvero, il volume costa 49,90€, lo trovate scontato su internet e anche nelle librerie, ma, ragazzi, davvero, una stampa del genere andando magari nel negozio di Minalima a Londra non la paghereste meno di 100 sterline. Quindi, solo per avere quella stampa e avere magari in futuro la possibilità di incorniciarla e appenderla in casa, secondo me, vale l'acquisto. Sono davvero super, super soddisfatto di questo volume, della qualità delle immagini a doppia copertina. Magari ve ne mostro una perché, ad esempio, quella dello Zuvu mi ha lasciato a bocca aperta. Eccola qui, ragazzi. Guardate quanto è bella questa illustrazione digitale e, come questa, ce ne sono tantissime altre, come, ad esempio, quella della Volta del Ministero della Magia Francese. È davvero uno spettacolo per gli occhi questo volume. La qualità è davvero altissima e, quindi, non posso che promuoverlo a pieni voti. Io, ragazzi, spero di potervi portare al più presto le recensioni degli altri due volumi editi da HarperCollins, perlomeno quelli principali, come La Magia del Film e, soprattutto, Gli Archivi della Magia. Io, ragazzi, vi chiedo, naturalmente, di commentare questo video. Fatemi sapere se voi avete già acquistato questo o gli altri volumi di HarperCollins. Fatemi sapere quale volete vedere nel prossimo video e, soprattutto, ragazzi, qualsiasi domanda, mi raccomando, fatela nei commenti, così io potrò rispondervi nel più breve tempo possibile. Naturalmente, trovate il link per acquistare questo e tutti gli altri volumi sotto in infobox. Trovate anche le varie liste di Amazon con tutti i prodotti potteriani consigliati da me. E, a questo punto, non mi resta che ringraziarvi per aver visto il video fino alla fine. Ringrazio tantissimo HarperCollins Italia per avermi fornito questo volume da recensire. E, ragazzi, io vi chiedo di attivare la campanella per rimanere aggiornati sulle novità e vi do appuntamento a prestissimo con tanti altri video. Ciao! Ciao! Musica Grazie a tutti.